Musica Giovedì 27 aprile, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione siciliana della nostra emittente. Da questa mattina i lavoratori della Tosa Appalti, l'impresa che ha in appalto le opere di bitumazione della Venti, l'autostrada Messina-Palermo, hanno incrociato le braccia per proteste. I mancati versamenti da parte del CAS e le rimesse sul caro materiale da parte del governo mettono a rischio centinaia di posti di lavoro. Il primo dei nostri servizi curato dal nostro inviato Salvo Cutuli. Il blocco del cantiere sulla A20 Messina-Palermo è solo il principio di una crisi nota da mesi, giunta al culmine in seguito alle mancate promesse di CAS, Consorzio Autostrade Siciliane per la corrisponzione dei SAL, lo stato di avanzamento dei lavori e del governo centrale con i decreti relativi al caro materiale. Una situazione di forte crisi sia per l'impresa incaricata dei lavori di pavimentazione in credito di 5 milioni di euro con il consorzio da sommare ai 6 milioni in neggiacenza nelle casse dello Stato, malgrado le promesse assunte in sede di governo nazionale e le rassicurazioni della regione. Da oggi, lavoratori e mezzi fermi lungo l'addorsale autostradale Milazzo-Rometta, direzione Messina, in un tratto di 5 chilometri già scarificati in attesa di essere pavimentati con i fornitori anch'essi sul piede di guerra per i mancati versamenti accumulati negli ultimi mesi. Siamo al paradosso, accusano gli operai. Il lavoro c'è, mancano le forniture necessarie al proseguo del cantiere, che rimane sospeso in attesa che da Roma e Palermo qualcosa si smuova nelle stagnanti acque della burocrazia che tiene in sospesa il futuro di decine di lavoratori per i quali la ditta ha comunicato ai sindacati lo stato di crisi, anticamera del licenziamento e crollo dei livelli occupazionali in uno dei settori traino dell'economia isolana. Siamo solo all'inizio di una protesta che potrebbe trascinarsi per settimane, se non mesi, e penalizzare la già critica condizione delle autostrade siciliane. La sgangherata Messina-Palermo era al centro degli obiettivi della politica regionale e invece si è trasformata nell'ennesima delusione. La situazione è un pochettino paradossale, perché il lavoro c'è e non ci sono i fondi per andare avanti. Il problema è che cerchiamo di andare avanti con le lavorazioni di scarifica, ma i fornitori hanno bisogno, come tutti ovviamente, di prendere soldi che da parte nostra non possono più garantire. E non dandoci loro materiale noi non possiamo più continuare le lavorazioni, perché sia che sia la scarifica, sia che sia la posa dell'asfalto, è tutto il materiale che dobbiamo prendere dai fornitori. Quindi è una situazione assurda dove il lavoro c'è, ma non ci sono i fondi per poter continuare questo lavoro. Va avanti da tanto questa situazione qua, diversi stati avanzamenti non pagati. Siamo andati avanti lo stesso, però è arrivato al punto in cui non ci si deve fermare per forza. E a fianco di questi lavoratori ci sono i sindacati che premono a tutela dei livelli occupazionali per una crisi le cui responsabilità sono da addebitare ad una politica regionale e nazionale. Ancora cutuli. A fianco dei lavoratori, i sindacati che stamani hanno portato la loro solidarietà e i 30 lavoratori impegnati in questo lotto della Messina Palermo, attivando i canali sindacali nelle interlocuzioni con le istituzioni a tutela della forza lavoro a rischio di licenziamento. Da mesi ormai la questione è come sospesa nell'indifferenza di chi dovrebbe dare risposta, invece continua a rinviare in un rimpallo di responsabilità cui a pagare il prezzo più alto sono sempre e solo i lavoratori, ma anche le maestranze che operano per conto delle aziende fornitrici, fiaccati dei mancati pagamenti ai quali con questo andazzo non resta altro da fare che ridurre la forza lavoro. Se crolla il sistema ci saranno danni collaterali, non solo nell'organizzazione lavorativa della ditta che ha in appalto i lavori di bidumazione della Aventi, ma anche tra quei fornitori che non riescono a fronteggiare la situazione di forte crisi tra debiti accumulati e le banche col fiato sul collo e interessi in crescita. Situazione insostenibile e non più accettabile. Mario Mancini della CGL Messina. Noi siamo qui perché c'era il rischio la prosecuzione dei lavori e per noi è importante il confronto col consorzio per farci spiegare il motivo perché per durare questa mancanza di impegni legato agli sale è legato alla questione dei bonus governativi che devono garantire un ristoro per le aziende che avevano seguito nella fase della crisi più acuta. Se non avremo le risposte che ospighiamo e non verranno date le prospettive sul proseguio, noi valuteremo poi l'iniziativa da intraprendere per ripristinare la tranquillità per i lavoratori perché viene messa a rischio la continuità dell'attività lavorativa. Se la ditta non può pagare le mensilità, i lavoratori non lavorano. La scopertura di cassa sia per l'impresa che per i fornitori chiude ogni ragionamento di collaborazione per durato per mesi e puntualmente disatteso. Così Francesco Catalano della Fillea Cisle. Sì, già ci siamo trovati l'anno scorso con questa situazione sempre bellatosa a parte perché l'impresa aveva problemi da avere gli stati di avanzamento da parte del CAS e quindi si erano fermati già anche l'anno scorso. Dopo a distanza di un anno ci ritroviamo nuovamente sulla stessa situazione che ci fa molto preoccupare sulla prosecuzione dei lavori e per i lavoratori stessi perché l'impresa ha mandato una nota direttamente a CAS che ancora oggi non ha reperito il decreto aiuti e il caro materiale del 2021 e più 4 milioni di stati di avanzamento fatti già e ancora non avendo che ammontano circa 11 milioni di milioni. Quindi la cosa è molto critica perché ci sono i fornitori che non forniscono più materiale all'azienda e i subappaltatori che chiedono anche loro i loro pagamenti. Quello che si rischia che l'impresa finisca e non possa lavorare più e i lavoratori un domani si potrebbero trovare in mezzo ad una strada. E a tal proposito a Palermo il nostro Luca Licata ha raccolto le dichiarazioni di Filippo Nasca Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Presidente, si sono bloccati i lavori sulla A20 all'altezza di Milazzo. La ditta al patratice dei lavori denuncia che sono circa 16 milioni che attende ancora. Sì, stiamo affrontando in queste settimane una serie di tensioni di carattere finanziario. Qualche giorno fa abbiamo risolto la problematica sulla Siracusa-Gela dove c'era un analogo rischio. Con la ditta che si sta occupando in questa fase della ripavimentazione della Messina-Palermo abbiamo un'analoga criticità che tuttavia contiamo di superare nei prossimi giorni. La prossima settimana incontreremo sia i responsabili della ditta che i lavoratori. Abbiamo alcune buone notizie da mettere sul tavolo e cioè il decreto del 15 aprile scorso con il quale il Ministero dell'Infrastruttura ha stanziato 14 milioni di euro per il caro materiale perché sostanzialmente la criticità più grande riguarda proprio il caro materiale. Noi abbiamo una serie di appalti i cui costi sono cresciuti proprio per il notevole incremento dei materiali di costruzione verificatosi nell'ultimo biennio e vorrei precisare che queste risorse sono risorse aggiuntive ulteriori rispetto all'appalto che ci vengono trasferite e ci verranno trasferite nei prossimi giorni dal Ministero delle Infrastrutture. Abbiamo un'altra buona notizia che invece ci arriva dall'Assemblea regionale perché è in discussione un disegno di legge che prevede anche l'attivazione di un fondo rotativo di 14 milioni di euro che permetterà proprio al Consorzio Autostrade di superare questi temporanei stress di casse e quindi di far fronte con proprie risorse, in questo caso trasferite dalla Regione, in attesa che arrivino i trasferimenti statali. Che tempistiche ci sono sullo sblocco di questi fondi? Perché da una parte sotto le festività si rischiano rallentamenti in autostrada, dall'altra un centinaio di lavoratori rischiano di perdere appunto il posto? Io confido che nella prossima settimana il cantiere potrà riprendere a funzionare regolarmente. Per quanto riguarda i disagi stiamo cercando di ottenuarli al massimo, ma vorrei sottolineare che il cantiere che ci riguarda, che è oggetto di queste notizie di oggi, riguarda proprio la ripavimentazione della Messina-Palermo. È un cantiere che durerà ancora un po', provocherà probabilmente dei disagi per la circolazione, ma alla fine, fra qualche mese, avremo il manto stradale della Messina-Palermo che tante polemiche ha provocato in questi mesi completamente rifatto e quindi condizioni di sicurezza e di viabilità sicuramente migliorate. Ci saranno disagi per i cittadini, mi scuso ancora, stiamo recuperando un po' i ritardi dei decenni passati, ma contiamo, ripeto, fra qualche mese di avere sicuramente l'autostrada, in condizioni migliori, il che non significa in condizioni ottimali, c'è tanto altro lavoro da fare, c'è tanto, ci sono tanti progetti in cantiere e quindi ci saranno mesi e anni ancora di sacrifici e di disagi, però sono necessari per rendere sicura e pienamente transitabile la nostra rete viaria. Cambiamo argomento, prosegue il flusso migratorio. Oggi la nave Vega della Marina Militare ha sbarcato a Catania 300 migranti che sono stati tratti in salvo nel Mediterraneo centrale. Mario Grass. Senza soluzione di continuità proseguono gli sbarchi in Sicilia, porta europea dei flussi migratori che continuano a partire principalmente dalle coste africane. Nell'attesa di nuovi SOS principalmente rilanciati dall'organizzazione Alam Fon, 500 persone sono state trasferite dall'hot spot di Lampedusa alla Sicilia attraverso nave Vega, 300 sono stati trasferiti nel centro di accoglienza dell'ex hub vaccinale di San Giuseppe e l'Arena a Catania, altri 200 sono stati invece condotti ad Augusta. Si lavora dunque per distribuire i migranti che nelle scorse ore hanno affollato l'hot spot di Lampedusa, quasi 3.000 persone, a fronte di una capienza massima di 400 ospiti. E si lavora non solo via mare ma anche attraverso un ponte aereo. Nel corso della giornata infatti da Lampedusa tre diverse aerei militari hanno fatto rotta verso Birgi, Sigonella e Cagliari per un totale di 270 migranti destinati a in altra sere. Dunque su Lampedusa è sempre alta la pressione, tanto è vero che il Vilminale ha annunciato di lavorare ad un nuovo programma che prevede un ampliamento significativo dell'hot spot perché questo possa accogliere nel migliore dei modi i migranti che dovessero arrivare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Non si tratta però di un centro di permanenza, quanto proprio di smistamento che dovrebbe consentire l'attivazione di ulteriori 850 posti. Gli analisti prevedono infatti che la rotta principale delle migrazioni possa continuare ad essere quella che si muove tra la Tunisia e Lampedusa e che ormai conta settimana dopo settimana migliaia di movimenti a bordo di barchini spesso inadatti anche solo al galleggiamento e, come si è appreso appena ieri, probabilmente messi in mare dopo una parte della traversata in navi madre. Intanto proseguono gli sbarchi. 102 migranti su tre diverse imbarcazioni sono stati soccorsi la notte scorsa da motovedette della Capitaneria di Porto, a largo di Lampedusa. Sull'isola sono state condotte le 102 persone, compresi due minorenni e dieci donne, tutte originarie del Sud Sudan, Marocco, Tunisia, Mali, Siria, Burkina Faso, Guinea, Camerun. E adesso parliamo di un'aggressione ai danni di un egiziano, ma anche di un incendio all'interno nel quale è rimasto coinvolto questo imprenditore nel Catanese da anni, stabilmente nel Catanese. I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno fatto luce su due episodi. Un'aggressione con calci e pugni che gli hanno procurato gravi lesioni alla milza che per questo è stata asportata. Era l'agosto del 2022, poi lo scorso marzo. L'incendio doloso di un immobile dal quale si è salvato miracolosamente, fuggendo da una finestra. Sono i due atti intimidatori di cui è stato vittima un imprenditore del Catanese, colpevole suo malgrado di volere acquistare gli immobili all'asta di un vasto agglomerato edilizio. I mandanti, secondo gli inquirenti, sarebbero l'ex proprietario Francesco Calanni Pileri ed il parente di un boss Carmelo Pino. I due sono stati fermati dai carabinieri di Randazzo, perché ritenuti da intercettazioni attivate dalla procura distrettuale, organizzatori di un'altra spedizione punitiva. Le indagini erano state avviate dopo la denuncia della vittima. I militari della compagnia carabinieri di Randazzo, supportati nelle fasi ejecutive dal nucleo investigativo di Catania, hanno arrestato all'estito di serrate attività di indagine due soggetti, entrambi pregiudicati. Si tratta di Calanni Pileri Francesco e Pino Carmelo Lorenzo, in quanto saranno stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di lesioni gravissime, tentata estorsione aggravata e danneggiamento seguito da incendio, che avrebbero commesso, nel periodo compreso tra agosto 2022 e fino al momento del loro arresto, in danno di un cittadino egiziano, ormai da anni residente in Italia, di 66 anni. Ieri a Palermo il leader di azione Carlo Calenda, che ha iniziato un tour della Sicilia per raccogliere proposte e rilanciare il partito. Luca Licata. Ancora una volta in visita nel capoluogo siciliano il leader di azione Carlo Calenda. La tappa di Palermo, ieri pomeriggio, è stata la prima di un tour della Sicilia, che toccherà anche la città di Mazzara del Vallo, prevista stasera alle 19, poi Caltanissetta, per chiudere a Siracusa. L'obiettivo di questo giro è quello di incontrare iscritti e simpatizzanti, raccogliere proposte ed idee, rilanciare il partito. Io ho sempre pensato, già nella scorsa legislatura, che la forza sta nel radicamento territoriale. La scorsa legislatura azione aveva due deputati e due senatori. e ha fatto questo lavoro andando sul territorio e prendendo amministratori locali. Quindi i gruppi sono aperti a persone per bene, come è Burbi, che vogliono venire. A Catania ne parlerò con Castiglione, come sapete noi abbiamo eletto un deputato a Catania, lo vedo dopo domani che sono a Caltanissetta, perché domani sono a Mazzara del Vallo, dove vado a Caltanissetta e poi a Siracusa, dove abbiamo, come voi sapete, candidato il nostro sindaco, Francesco Italia. Quindi appunto un giro tra una Sicilia che ormai, insomma, frequento molto spesso. Al fianco di Carlo Calenda, Fabrizio Ferrandelli, membro della Segreteria Nazionale, capogruppo di azione a Sala delle Lapidi. Il senatore Calenda ha commentato le affermazioni sul flop del terzo polo lanciate dal palco dagli esponenti forzisti sabato scorso nel corso della convention del partito. La nostra proposta, sottolineato il leader di azione, non è rivolta ad un elettorato moderato piuttosto ad uno pragmatico. Credo che la questione non è l'area moderata, la questione è l'area pragmatica, cioè che fa accadere delle cose e credo che Forza Italia questo ruolo abbia abiticato da molto tempo. Quindi noi non abbiamo una proposta rivolta ai moderati, noi abbiamo una proposta rivolta a chi vuole far funzionare il Paese e questa proposta nasce prima dell'accordo con Italia Viva, continua dopo Italia Viva e sarà ovviamente aperta, ma si fa un lavoro che è fondato sul rapporto con i cittadini elettori, non con i moderati. I moderati non esistono, è una categoria dello spirito. Ognuno può essere moderato o non moderato. Il tema è come spendi i soldi del PNRR, come accorci le liste d'attesa sulla sanità, come metti a posto le infrastrutture, come fai il salario minimo. Questo è ciò che interessa i cittadini e questo è ciò che facciamo noi. A Catania adesso, dove i carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno deferito in stato di libertà un 61enne titolare, a suo dire, di un autoricambi tra la zona di San Leone e il centro cittadino. State vedendo le immagini, il soggetto gestiva un'attività commerciale di vendita di parti di autoveicoli senza alcuna autorizzazione o licenze ed in violazione di alcune normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il negozio, grande circa 1200 metri quadri, tra parte coperta e scoperta, custodiva al suo interno innumerevoli parti usate da auto, tra cui motori interi, sportelli, fari, pneumatici, marmitte, assi e semiassi, intere frazioni o cablaggio. Un vero e proprio market dell'auto usata, il cui ammontare economico delle centinaia e centinaia di pezzi, da una stima per difetto, si aggirerebbe almeno sui 150-180 mila euro, di cui il gestore non ha saputo minimamente giustificarne il carico o la provenienza. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell'ambito di alcuni controlli per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti, hanno sequestrato un immobile nel quartiere Ballarò, dopo che al suo interno hanno scoperto, lo vedete anche in questi scatti, una piantagione di marijuana con oltre 14 chili di sostanza stupefacente. L'appartamento era suddiviso in quattro locali per far fronte all'intero ciclo di produzione, dalla coltivazione in base alla fase di essiccazione fino al confezionamento ed era dotato di un sistema di aerazione con ventilatori, un condizionatore e altri due aeratori, nonché un sistema di illuminazione realizzato ad hoc con un contatore Enel e un quadro elettrico da cui partivano 13 trasformatori che fornivano energia ad altrettante lampade, ovviamente collegato abusivamente alla rete di illuminazione pubblica. C'è stato un tamponamento a catena questa mattina poco prima delle 10 sulla strada statale 114 all'altezza del Bivio per Acireale in via Aquilia per causa in corso di accertamento da parte della polizia locale accese. Un'autovettura Ford EcoSport che guidata da una donna procedeva in direzione Catania, ha tamponato un camion Iveco fermo in corsia di marcia perché è incolonnato, camion che a propria volta spinto dall'impatto da tergo provocato dall'automezzo ha tamponato un furgoncino Renault che lo precedeva in fila arrestandosi contro il muro perimetrale in pietra lavica. La conducente dell'autovettura nonché due persone che erano all'interno del furgoncino sono stati medicati sul posto e poi condotti al pronto soccorso per accertamenti. Per fortuna le condizioni non sarebbero gravi ma per buona parte della mattinata il traffico veicolare ha risentito del restringimento della carreggiata stradale necessario per consentire i rilievi da parte della polizia locale successivamente per la rimozione dei mezzi incidentati. Dal 12 al 27 maggio prossimo il Teatro Antico di Catania ospiterà la quarta edizione dell'Amenanos Festival a cui farà da corollario anche il Neos Festival dei giovani. Francesco Larosa. L'Amenano Festival torna protagonista a Catania nel magnifico scenario del Teatro Antico dal 12 al 27 maggio prossimo e in programma la rassegna che quest'anno goda del patrocino della regione siciliana. In scena il ratto di Proserpi nell'Antigone. L'evento torna alla ribalta dopo i difficili anni della pandemia. Siamo sì giunti al quarto anno è una ripresa una rinascita anche dopo quello che è successo con il covid ormai una storia sembra messa dietro alle nostre spalle. Le novità sicuramente sono che il cartellone è stato diminuito nei titoli e comunque è stata data molta importanza a quello che era un filo logico fra le due opere per quando una è una tragedia greca Antigone di Sofocle per la regia di Cinzia Maccagnano con attori protagonista Alessandra Salamida e Fulgo D'Angelo. L'altro è una riscrittura più che una riscrittura è un testo innovativo della Proserpina questo mito quindi è stato fatto una drammaturgia da parte di Alessandra Salamida che è anche la regista di tutti quelle che sono le caratteristiche di questo mito quindi è stato fatto un lavoro su tutti i padri che ne hanno trattato da Omero, da Ovidio fino ad arrivare all'età contemporanea. Ritorna quest'anno dopo il debutto dello scorso anno il ratto di Proserpina per il successo che ha avuto mentre l'Antigone è in prima assoluta. Noi siamo ben lieti di dare la possibilità di poter fare questa manifestazione culturale che arricchisce ancora di più la fruizione di questo bene architettonico. E la riscoperta anche se vogliamo di ciò che abbiamo a Catania e che va valorizzato? Beh diciamo che il teatro già di per sé è abbastanza gettonato come presenza. Noi l'anno scorso che eravamo ancora diciamo post Covid però siamo riusciti a fare 100.000 biglietti l'anno che non sono pochi per un teatro all'interno di una città come Catania. Diciamo che questa è l'occasione per amplificare ancora di più la fruizione per la comunità di questo bene architettonico. La giunta regionale su richiesta dell'assessorato all'agricoltura ha dato il via libera alla proposta di dichiarazione dello Stato di calamità naturale nel Siracusano per i danni causati dal maltempo che ha colpito la zona il 9 e il 10 febbraio scorso. L'iter dovrà essere concluso dal Ministero dell'Agricoltura. Pioggia alluvionale e venti impetuosi avevano gravemente compromesso la produzione agricola e strutture in tutto il comprensorio. Particolarmente colpiti i territori dei comuni di Siracusa, noto Avola, Pachino, Portopalo di Capopassero, Rosolini, Augusta, Floridia, Solarino, Melilli, Priolo, Gargallo, Lentini, Carlentini, Acora, Sortino e Francofonte. Complessivamente si stima un danno di oltre 56 milioni di euro alle strutture agricole. Aperto ufficialmente i battenti questa mattina a Catania il villaggio Teleton per la ricerca e per la solidarietà. La presenza tra gli altri di Salvorafa, presidente del CSV Etoni, Roberto, vicepresidente del CNA, Maurizio Gibilaro, coordinatore Teleton e ancora Franco Malerba, presidente comunale di Avis Catania. Con loro anche Giorgio Catania, con la sua testimonianza che vede uno dei suoi figli affetto da fibrosi e cistica. Presenti anche i ragazzi di alcune scuole, in particolare l'Anino Martoglio di Belpasso e dell'Istituto Comprensivo di Nicolosi con performance di musica. Eventi in programma sino a giorno 20, sia mattina che pomeriggio, ma anche la sera con le esibizioni delle Tribute Band. Adesso ci spostiamo da Ciriale, dove la tradizione dei cantastorie sbarca a scuola. Entusiasti gli alunni della scuola Paolo Vasta per la performance di Luigi Di Pino. Francesco Larosa. Chi è avvistuto un po' di Robby? Le tradizioni antiche sui banchi di scuola. Il cantastorie è protagonista di un incontro con gli studenti della scuola primaria dell'Istituto Paolo Vasta di Ciriale. Una mattinata intensa, grazie alla performance di Luigi Di Pino, uno tra i cantastorie siciliani più affermati. È stata l'occasione per assistere alla favola di Giuffà, secondo una dettagliata descrizione, alleggerita da canti, balli e tanto divertimento. La tradizione del cantastorie che si ripropone a scuola anche con gli alunni della Paolo Vasta? Sì, continua questa opera di divulgazione delle nostre tradizioni. Devo dire che con i bambini è sempre un'esperienza esaltante. Oggi sono tantissimi, c'è tutta la scuola primaria della Paolo Vasta di Ciriale e a questo proposito vorrei ringraziare il preside, Orazio Barbagallo e vorrei ringraziare anche la maestra Angela Fresta, la referente per la scuola primaria. Vorrei dire che a breve inaugureremo la mostra permanente del cantastorie siciliano, a riposto, quindi doteremo riposto di questa bellissima realtà. Come si fa a trasferire ai bambini, ai più piccoli, la tradizione del cantastorie? Ebbene, con i più piccoli devi usare il loro linguaggio, quindi innanzitutto devi essere veloce, ma il segreto più importante è quello di coinvolgerli in prima persona. Quindi io chiamerò proprio loro a fare delle parti di alcuni personaggi, tra cui Giufa, che è il protagonista, e in questo modo i bambini si sentono coinvolti e quindi quell'oretta scorre senza che nemmeno se ne accorgano. Una tradizione portata sui banchi di scuola anche dai più piccoli? È una tradizione bellissima che non dovremmo perdere, perché le nostre tradizioni, le nostre origini sono importanti e questo rifacendoci a un progetto che è cascato a fagiolo, perché a proposito di cantastorie, che originariamente si chiamava per cante, stiamo portando avanti questa tradizione che è una cosa da non perdere. Che bisogna trasferire anche più piccole, proprio nel segno della continuità? Certo, perché se no sono cose che andranno a perdere. Una volta che non si faranno più, che andremo a fare attività nuove, le origini, come dicevo prima, si perdono e non si sa che cosa vuol dire raccontare la storia attraverso un cantastorie. C'era un bambini chiamato C'è grande attesa a Catania per la festa a Rossazzurra in programma domenica sera allo Stadio Angelo Massimino in occasione della promozione tra i professionisti della maggiore squadra calcistica cittadina. Fila ai bottiglini e pochissimi biglietti ancora disponibili. Francesco Larosa. E febbre da stadio in vista della gara tra il Catani e la Santa Maria del Cilento in programma domenica sera alla Massimino. Nell'occasione, come voluto dalla presidente Rossazzurro Pelligra, sarà festeggiata in grande stile la promozione in Serie C della squadra allenata da Giovanni Ferraro ai bottiglini e fila per assicurarsi un prezioso tagliando per presenziare all'evento. Una bella festa con la promozione, festeggeremo sicuramente la promozione sperando l'anno prossimo una squadra come questa qua in ogni caso. Ci sarà anche il presidente Pelligra? Si spera. Signora, anche lei allo stadio? Certo, il presidente ci ha invitati perché ha detto che tutti i nonni devono andare allo stadio quindi noi che siamo nonni andiamo allo stadio a maggior ragione rispetto anche ad altre volte che siamo andati così senza essere invitati esplicitamente dal presidente. Quest'anno si è fatto bene ma si guarda in prospettiva futura? Eh, vabbè, sarà dura però noi siamo fiduciosi nella squadra del Catania, nel presidente perché il calcio per il Catania deve essere anche un volano per lo sviluppo della città non soltanto sport ma anche proprio sviluppo economico, sociale. Ho portato mia moglie, se riesco anche mia mamma, se ci riesco visto che il presidente ha chiesto anche i nonni. Come vede appunto lei questa rinascita dopo momenti tristi? Ma io vedo una... sicuramente la società è molto positiva per quanto riguarda tutto abbiamo visto da gadget comunque ci avvicina anche più di più il pubblico allo stadio. Si immaginava una cosa del genere anche perché con la presenza del presidente insomma chiunque vorrebbe festeggiare insieme a lui questa grande promozione che ha fatto il Catania quindi secondo me sarà un giorno da ricordare questo. Io sono nonno e mi porto il nipotino e mi aspetto di andare avanti perché effettivamente il campionato all'anno prossimo la Serie C è il più difficile in assoluto secondo me nei campionati italiani. Una magnifica festa perché il presidente del Catania per lì Bosco se lo merita molto molto se lo merita per tutti noi catanese ha fatto rinascere un'altra volta il calcio catanico e ne ricollisciamo molto molto assai per il futuro come ha detto per l'Igra ci sono buone prospettive. C'è la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta al momento del meteo. Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani venerdì 28 aprile il cielo sarà velato da nubi sparse sia sul versante orientale che in quello occidentale dell'isola schiarite più ampie invece sul messinese i venti saranno deboli ma ricammi le temperature. Su Catania minima e massima rispettivamente di 13 e 24 gradi centigradi il capologo etneo registrerà la massima più alta dell'isola mentre nell'entroterra ed in particolare nell'ennese la minima prevista è di 5 gradi centigradi. E' tutto per questa prima edizione noi vi ringraziamo per averci scelto e vi auguriamo un buon proseguimento di pomeriggio. Grazie a tutti.